In questo video vi parlerò delle principali differenze tra le tre strategie di ablazione utilizzate per la fibrillazione atriale. Delle tre energie attualmente disponibili per eseguire l'ablazione della fibrillazione atriale che sono la radiofrequenza, la crioablazione e l'elettroporazione, l'efficacia della procedura sembra essere la stessa per tutte e tre le metodiche. La principale differenza riguarda i tempi procedurali che sono più brevi per l'elettroporazione rispetto alla crioablazione e la radiofrequenza, anche se c'è poca differenza con la crioablazione e un po' di più tra queste due metodiche e la radiofrequenza, e l'altra è la sicurezza, in quanto l'elettroporazione dai dati al momento disponibili sembra essere più sicura rispetto alla crioablazione e alla radiofrequenza, in quanto è un'energia più selettiva nei confronti delle cellule target.